SIGLA Benvenuti, aspiranti eroi. Un poro mi ha detto che volete diventare degli avventurieri come Braum, eh? Eh, non vi biasimo. Ma attenzione. Non si entra con facilità nelle terre genide se impreparati. Se vi imbotteste in una palanga o in un branco di lupi o... ...dimenticaste il maione a casa, Braum non se lo perdonerebbe. Se volete diventare gli eroi del Freljord, Braum dovrà prima farvi la guida. Andiamo. Ben, a una prima occhiata, il Freljord potrebbe sembrare solo gelo e neve. Ma quella è solo la punta dell'iceberg. Guardate bene. Scoprirete vite e colori ovunque. Nel cielo, sotto i piedi e a volte anche in qualche nascondiglio segreto. Lezione numero due. Se vi ritrovate in un vicolo cieco, guardate meglio. Presto avrete la vista acute come un falco del gelo. Oh, a proposito. Dovrei mettervi in guardia sulla nostra... ...fauna locale. Hai visto? Tranquilli. Krug isolati o mandri di Elnuk sono innocui. Sono le creature più grandi a cui bisogna stare attenti. Alcuna cercherà di ammazzarvi? Assolutamente. Ma altre potrebbero rivelarsi alleate, come Orbi. Vediamo cosa sapete fare. Il che ci porta alla lezione numero tre. Gli amici sono la vostra più grande forza. Ma a quanto pare lo sapevate già. Sì, ma certo. L'amicizia è una cosa magica, vero? Beh, il Freljord è pieno di magia. Le leggende parlano di un'antica razza che somiglia a dei poro giganti. Usavano la magia per fare tutto. Creare arte, suonare e andare in giro. Più veloce sia Nidia! Per la lezione numero quattro prendiamo esempio da loro. Anche i più prodi avventurieri non devono mai dimenticare di divertirsi. Sapete, così. Per tutti i Trubask. È la guardia del cielo. La fortezza della strega dei ghiacci. Credetemi, piccoli eroi. Vi conviene non finire lì dentro. E non solo perché Lissandra ha un pessimo gusto in fatto di arredamento. È meglio tenersi a distanza. Per ora. Beh, direi che abbiamo finito. Ehi! Un ottimo! Ho dimenticato di dirvi la lezione numero uno! Allora, siete pronti per la lezione più importante di tutte? Beh, io... Oh no! Brom non ricorda la lezione più importante di tutte. Ma ve lo dirò più avanti. Insomma, sono certo che ci rivedremo se non vi fate divorare dagli arvigli selvaggi. Fino ad allora, piccoli eroi, buona fortuna per le vostre avventure. E benvenuti nel Fraglio! Oro! 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 Grazie a tutti.